E poi altre cose, come dicevo, essere un po' misteriosa, non essere la prima a contattarlo, lascia che faccia la prima mossa, questo ti farà inseguire, sembra una cosa stupida ma ti farà inseguire, e poi si autentica, che significa che non devi interpretare, non devi interpretare, diciamo, dei ruoli che non sono i tuoi, no? Devi interpretare, non devi mai interpretare i ruoli che non sono i tuoi fondamentalmente, no? Quindi devi cercare di essere te stesso. Queste sono un po' le cose che ti suggerisco per queste strategie fondamentalmente. Bene, bene, detto questo, ricordo che alle 21 ci sarà la Premiere e questa volta alle 22 poi ci sarà la musica rilassante.